Tiziano Pesce, presidente WISP. Grazie, grazie Ivano, grazie sottosegretario Barbaro, grazie Claudio. Non avevo dubbi che oggi avresti portato in questo appuntamento il tuo affetto anche nei confronti dell'associazione, la testimonianza di un percorso che vede organizzazioni all'interno del panorama sportivo compiere dei percorsi importanti ma soprattutto una testimonianza del tuo inizio di sottosegretariato molto concreto. Complimenti per l'ulteriore delega, sono felice, siamo felici ovviamente. Grazie per i tuoi passaggi importanti, no dichiarazione di facciata, no voli pindarici che si sposano appieno con quello che umilmente noi cerchiamo ogni giorno di portare avanti, che intreccia molto il lavoro all'interno dell'alleanza per lo sviluppo sostenibile, intreccia molto il percorso che ci ha visti negli ultimi anni lavorare molto al fianco dell'istituto per il credito sportivo. Un impegno quello della WISP anche sui valori come sapete di trasparenza, di rispetto delle regole che portiamo avanti in tutte le sedi. Ci ha fatto molto piacere anche in queste settimane ascoltare Andrea Bodi nel nuovo ruolo di ministro, ad Andrea ancora una volta tutte le nostre più vive congratulazioni e gli auguri di buon lavoro e soprattutto ringraziamento per come il ministro Bodi in queste settimane sta portando avanti sempre concretamente delle azioni importanti per lo sport di base. Il ministro Bodi parla spesso di condivisioni di metrica, condivisioni di vocabolario e quello che abbiamo apprezzato dell'istituto del credito sportivo in questi anni, un istituto del credito sportivo banca pubblica che ha sostenuto molto da vicino il territorio, l'associazionismo sportivo e lo ha fatto nel solco di un impegno che appunto dal nostro osservatorio vediamo proprio stretto sugli obiettivi di sviluppo sostenibile. Allora molto velocemente per non rubare spazio queste sono le coordinate proprio del nostro progetto Sport per tutti sostenuto dal ministero del lavoro e delle politiche sociali all'interno del quale oggi svolgiamo questo importante appuntamento. Una WISP, ente di promozione sportiva, associazione di promozione sociale che ha voluto cogliere le sfide, le opportunità, gli oneri anche oltre che gli onori della riforma legislativa del terzo settore pensando ecco di portare in dote un patrimonio collettivo di esperienze, di competenze che partono ovviamente dalla quotidianità dello sport sociale, dello sport di base ancora una volta lo sottolineiamo grazie veramente a un impegno mai come in questo momento come in questa fase storica particolare, un impegno straordinario delle nostre associazioni e società sportive del territorio, dei dirigenti, dei tecnici, di tutte le figure che ruotano all'interno della nostra rete associativa nazionale. Cerchiamo di tenere tutto questo anche diciamo in linea col nostro percorso di sguardo verso la dimensione europea dello sport sociale, altri paesi sono sicuramente più avanti del nostro e tutto il percorso che abbiamo portato avanti in collaborazione, avviato col forum del terzo settore, in collaborazione all'interno del comitato economico sociale europeo che ci ha condotti nel marzo scorso all'approvazione, all'unanimità da parte del CES del parere d'iniziativa proprio che ha uno sguardo sull'azione dell'Unione europea sull'uscita, sul superamento dell'emergenza covid e soprattutto su quella sollecitazione nei confronti dell'Unione europea a rendere più visibile ed incisiva la politica comunitaria in materia di sport a partire dall'inclusione del tasso di deprivazione sportiva nell'elenco degli indici di Eurostat per misurare la deprivazione materiale. Quindi ecco volevo semplicemente aggiungere aggiungere questo, non togliere tempo e ringraziando ancora una volta oltre al settore settario Barbaro la presidente dell'ICS, la presidente Baldino, grazie Antonella e poi a cui cederei, Ivano sei d'accordo il microfono, per poi chiedere ecco Pierluigi Stefanini, a Pierluigi ovviamente non solo, Pierluigi arrivano i nostri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni, a capo dell'alleanza per lo sviluppo sostenibile ma anche le congratulazioni per il rinnovo dell'incarico che è arrivato in questi giorni, WISP ovviamente è soggetto corpo sociale aderente all'alleanza quindi un grande ringraziamento per il lavoro svolto e quello che andrete a svolgere tu Pierluigi e anche Marcella Mallen, presidente quindi e portavoci di ASVIS e poi abbiamo avuto anche l'ingresso di il ritorno di una figura che ovviamente non ha bisogno di presentazioni come Enrico Giovannini alla direzione scientifica dell'alleanza. Quindi grazie ancora Antonella, a te. Grazie Tiziano Pesce, presidente nazionale WISP.